Abbattimento del ferro di cavallo a Pescara. Domani è una giornata particolarmente importante visto che in Consiglio Comunale andrà alla variante progettuale. Se la delibera, spiega l'assessore all'urbanistica Isabella Del Trecco, sarà approvata, si potrà proseguire con l'iter. Abbattimento e ricostruzione con due palazzine nuove di zecca. Domani concretamente il Consiglio Comunale si dovrà esprimere su una delibera che prevede una variante progettuale. I vecchi piani PEP sul nostro territorio sono tutti su un'area indicata come sottozona 3, quindi una sottozona di tutela rispetto alle nostre norme tecniche di attuazione del piano regolatore, che non consentirebbero la demo ricostruzione. Con questa delibera noi andremo, speriamo, ad approvare questa variante progettuale che consentirà di poter procedere all'abbattimento dell'intero ferro di cavallo, cosiddetto, e successivamente alla realizzazione di due palazzine altamente tecnologiche, in classe A, con un numero di abitanti di alloggi assolutamente e notevolmente più basso, perché parliamo di 56 alloggi. Difficile prevedere una tempistica, ma dovendosi sbilanciare? Allora, io parlo con i fatti. Chiaro che tutto questo avviene noi come gestione, l'Ater in qualità di proprietaria come gestore invece dell'appalto. Un appalto che è già pronto, ma che potrà partire solo a svuotamento completo degli immobili. Gli immobili sono già stati, per quanto riguarda gli assegnatari a 20 titoli, assegnati in nuove case e via via si sta procedendo anche allo sgombero, così come alla sistemazione che consentirà alle famiglie già assegnatari di potersi trasferire. Spero che, come dice l'Ater, per agosto sia tutto fatto in maniera tale da poter far partire il nuovo appalto. Non solo, aggiunge l'assessore del Trecco, ci sarà una vera e propria riqualificazione della zona, anche grazie alla strada Pendolo. La strada Pendolo è una di quelle strade che forse sarà la più bella, essendo una strada nuova come ampiezza e come importanza di collegamento, che è nata e proseguirà proprio lì dove insiste il ferro di cavallo insieme a via Tavo. E quindi riqualificare quell'area abbattendo tutto, realizzando in modo tecnologicamente elevato e lasciando degli spazi da riqualificare, così come lasciando degli spazi a piano terra, perché questa è la nostra volontà, per inserire dei servizi sociali e dei servizi pubblici.